Salve a tutti ragazzi, bentornati in questo video, io sono JNM e oggi siamo tornati con la Corsense Survival in compagnia di TheMathGamer15 Saluto Allora, nello scorso gameplay che vi lascio in descrizione come il canale di TheMathGamer15 e il link del download della mappa perché uno di voi me l'ha chiesto Nello scorso gameplay abbiamo trovato la palma, il villaggio e poi abbiamo trovato la radio, abbiamo fatto tante cose e quindi andatevelo a vedere Abbiamo messo la difficoltà facile, credo che fosse messo la difficoltà quindi adesso cominciamo a craftarci quindi le cose per poter come dire fare le cose nel caso Quindi craftiamoci Dammi del legno? Sì, tieni, tappati l'onda carino Aspetta Ci craftiamo una spada Una bella crafting table No, la crafting table l'ho messa qua, è sopra di te, sopra la cessa Eh, amen Ah, no, come? Me l'ha fatta craftare senza motivo Vabbè, capirai Ci craftiamo Ci craftiamo una volta Un piccone È quello che è, ci siamo Ci siamo, raga Io mi faccio una spada di legno, cioè meglio di me Sì, sì, ehi, come ce la possiamo fare la spada? Posa tutto, eh Posa tutto perché è molto importante Allora, magari ci portiamo degli snack Qualcosa da mangiare Perché è apparso perché siamo formati Abbiamo preso Allora Allora, prendi i biscotti e un po' d'acqua Ok Guarda, ma la carbonetta ce l'hai tu Sì, è, bevi, bevi che hai molta sete Sì, l'avevo già notato Ma non ho capito, quando è il massimo di sete? Non lo so Allora, la carbonella ce l'abbiamo qui Credo che la dobbiamo usare Eh, la prendo io, un attimo Lei è la tipo Il cioccolio, l'ho già preso? No, come? L'hai preso? Chi ce l'ha il cioccolio? Io non ne ho Ah, io ce l'ho, l'ho preso, io l'ho preso Ah, vabbè, vabbè E fai con 4-16 torce Dovresti riuscire a fare Qui ancora non c'è nessuno, eh? No, non è abbastanza Vabbè, ho fatto 12 torce Dovrebbero bastare Vabbè, posa tutto, posa tutto Che è molto importante Io mi sto portando 3 biscotti No, abbiamo il keep in vent Ce l'abbiamo, abbiamo controllo E ce l'abbiamo Ah, vabbè, abbiamo il keep in vent Perché, raga, qua morire Piazziamo un po' di torce Che qua poi spawnano gente indesiderata Ok, allora, andiamo Non ne mettere troppe Me le mettiamo tutte sotto, ok? Ok, lì, già vedo Ma io o c'è qualche zombie? C'è uno zombie? Oh, uccidilo, uccidilo Lo uccidilo Io sto laggando, eh Sto laggando giusto Sento del... Giusto un po' Eh, giusto un po' non lo so Che vuole il giusto un po' non lo so Ho due tacche Vabbè Vabbè, l'importante è che non si vede malissimo Perché poi il video se no viene male No Diciamo che... Io vedo giusto un po' scattare Ma quante torce metti? Ebbene, così la prendono qua Qua già c'è una torce di calcio Allora, vengo qua Io nella cabina Non so se abbiamo esplorato tutto, eh Non lo so Vabbè, andiamo Andiamo sotto Si sta facendo notte, però Scusami, ma c'è scritto What are for quest only? Vuol dire che lo dobbiamo fare solo per la quest No, quest ospiti Ma questo è della lana Questo è un pezzo di lana Dove? Questa è lana E là c'è uno zombie Oh, qua... Oh, c'è lana, vero? Prendi la lana che facciamo il letto E ma ce ne sono una Massimo, uno di noi si disconnette E dorme Vabbè, capirai Metti il letto Prendi la lana Eh, sì Aspetta Ce n'è abbastanza E la lana nera Tu coprimi Tu coprimi Qual è la lana, scusami? Eh, ce n'è, ce n'è Questa è la lana E ce n'è, ce n'è sei Sei giusti, giusti Tu coprimi E dove raggi? Io non ne vedo gente E io sento gente Allora, andiamo subito Eh, anch'io Non è quella Dove la sono? Ok, l'ho presa L'ho presa Andiamo di corsa Nel bagno Corri, corri Andiamo nella nostra stazione Gira che sarebbe il bagno Ok, andiamo qua Ciao Vai, entra, entra Che sento dei ragni pure Ok, allora Sto craftando il legno Aspetta che devo prendere il legno Quanto legno ci serve? Sei? Oltre a 4, 5, 6 Ma sento troppo Ma io non me ne racconto Così ora non dobbiamo Anzate alla notte Ah, ragazzi Scusa L'abbiamo messa L'abbiamo creato Io Come cavolo sono i letti Sta Sta cosa Quanta sete cavolo Quanta cavolo di sete C'ho? Aspetta Eh What Allora io toglieri sta roba qua E allora Qua c'è un letto L'altro letto dove che lo mettiamo? E' sposta la cesta Nooo Ci sono troppe cose Ma lo mettiamo qui Guardate con che spazio Vai via via Dormiamo Allora io dormo qua Oh c'è gente Dove è la gente? Un attimo Ma fuori sarà Eh no Vediamo se riusciamo a dormire Allora vediamo No Non mi fa dormire Magari si allontanano Oh sono so Dove possono essere? Ma qua io non ne vedo E neanch'io Qua non c'è nello Oh no Scheletro Scheletro Vieni Oh mi guarda dov'è Lurido scheletro Che non c'è Oh fermo Meno fine se no Fermo che qua ci muoio io Proprio male C'ho quattro cuori e mezzo di vita Oh fermo Lurido Eh io laggo Guarda Non so se mi prende Muoio Eh ma io sto Sto crucendo Colpisci me Io laggo Oh c'è Il zombie Entriamo subito Entriamo subito Vieni Vieni nel bagno Ok l'ho ucciso L'ho ucciso Mi ha troppato un arco Vero? Sì Facciamo zombie Aiuto E il laggo io Ecco Ecco Sono morto Sei sponato Dove sei? Eh sono morto Mezzo cuore Ciao Sono bello Io se riesco ad ammazzare No no non mi ha colpito Però l'ho ucciso Ma non ti metto Non ti è sponato nel bar Grande Io sto Ho mangiato Ah è un arco Tra l'altro Ok ragazzi È passata la notte Mi sono venuta a dormire E io non ho più una spada Mi è stata distrutta Mi ve lo ricraftare Come ti è stata distrutta? Eh ma non dove niente La spada di legno Ma c'era solo gente Che muore al fuoco Quindi dovrebbe Allora andiamo Andiamo subito A A A Esplorare sotto Tu dove sei? Fermo No C'è un pesce Ho trovato Che cosa Schifo è sta cosa? Ah Rottenplash Scusi Ah Lo zombie che ho ammazzato prima Che mi ha ammazzato Entriamo Di nuovo dentro l'aereo E esploriamo Dentro l'aereo? Eh sì Dobbiamo esplorare A stiva Sotto non ci siamo ancora andati Ma sei sicuro Che ci sia qualcosa? Ma non ci potrà Guarda Qua sotto si scende Dove? Eh aspetta Che gli prendo un po' di blocchi Da dove si scende? Aspetta Ah Ragione Che cosa schifo sarebbe? Oh Gente Gente indesiderata Troppa gente Oh Oddio Grande creeper Oh grande Oh Cioè Zio c'è facilità il lavoro È la prima volta che E c'è un bordello di lana E sto lavando un creeper Oh aspetta Oh Sennò Sennò qua c'è un rimane Ok morto Oddio Un creeper Oh le torce Le torce Mi servono le torce Scrivi Stanno vendo un bordello di zombie Oh no No Sono morto Oddio 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 Ma ok C'ho le torce Ma che stai lasciando qua in baglia degli zombie Sono quattro Aia 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 Poi la squadra mi si sta tozzuando Io sto laggando Lasci il tuo amico laggante Tu lasci il tuo amico laggante Perché qua si mettono un po' lì In baglia degli zombie Oh vieni aiutami Sto venendo Te l'ho detto che non dovevo giocare senza difficoltà Perché sta mappa non serve Guarda Ok ho trovato il metodo Non dobbiamo semplicemente Allora guardate come li piucchio io adesso Siccome io sono furbo Cosa fai? Eh Madonna Cosa si furia Guarda Ci abbiamo il mio acquisto Non riesco a picchiare Sto laggando Mi si è bloccato tutto Ma qua non mi pare Oh vieni Ah vieni Portali fuori Se li avvicini fuori Bruciano Portali fuori Che li ho portati fuori Così ora sta bruciando male Devo venire Vabbè vengo Cazzuolo Muori Muori schifo Schifo Ah ma qua ci voglio le mani Ci ho degli animali Qua dobbiamo illuminare tutta la zona Bonifichiamola Non ho più una spada Ah ma io ti dimentico che non devo spammare Eh non ho più una spada Gli do picconate Gli do picconate E muori Ok allora Io faccio in capolore Quel Cosa Zio ma lini in fondo C'è gente No addio Addio Ciao No No raga Non posso morire due volte No Ci sei Giacomo Eh Ah non lo so io Via Via Devi portarci fuori Io non c'avevo proprio una stecca di vita Allora Senti Mi sa che ce la possiamo fare Ce la possiamo fare Ce la si può fare Sai come Sotto Io sono sopra che mi serve una spada Allora fa una cosa Crafta anche per me un'altra spada Che la mia stai sapendo E inoltre se magari non puoi Eh come si dice Crafti le torce Le altre torce E' rimasto un pezzo di jack hole Un pezzo di jack hole Dove l'hai messo? La cesta delle robe importanti Dov'è che l'hai messo? Ah forse ce l'ho io Eh Ce l'ho io Ce l'ho io Le faccio io Le faccio io Ma il pollo non lo possiamo sprocare Allora io prendo altro legno Io avrei anche un osso Nel caso L'osso posalo Anche io ce l'ho uno Eh dico nel caso Eh Ci potrebbe tornare utile Per come bombina Allora qua c'è Qua c'è una Una spada Ok Ah Grande Eh droppamela Grazie Ok quante morti sono io? Che me lo leggi Me lo dovresti leggere Tu sei a una credo No due 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 Oddio è sponata gente È un creeper Oddio Allora Ok ragazzi Stiamo Abbiamo creato un po' di cose E qua devi torcificare Qua devi torcificare Oddio Ma io sono morto già Sono morto Come sei morto? Eh Ho tre pochi in mezzo Via Via Fatti seguire Se tu ti fai seguire Ok Devi torcificare qua Dove Mamma torcificare le grandi Ma qua Quante torce Seguite Seguite Quante torce Le metti Qua sola volta Ma quanta gente c'è Io non ho vita Addio È stato bello Come è stato bello Oddio Qua c'è un sacco di gente Copritemi Copritemi Zombie Ok Io mi muovo più così Non mi colpisco Ah ma non avevo proprio idea di che ci fosse qualcosa Ok fermati Io vado di torciata Io sono morto eh Eh porca vacca No raga anch'io basta Non si può veramente Quante morti c'ho porca cane Ma no no Sono cinque morti Ci dà la sportiva Quanto sono? Tre Io Quattro Minchia No non posso morire Allora andiamo con cautela Con cautela Hai messo troppe torce qui No zio Quale troppe torce Così poi spawnano anche qua sopra E siamo a posto Allora dovremmo farci seguire Fuori Così vi bruciate Ma cosa che ci sono i creeper pure Va bene Facciamo seguire fuori Oddio Mi sparo Oh c'è stato uno scheletro Poi non è sparo Si sono scheletro Là dietro c'è un altro C'è C'è Adesso ti spungono tutti i zombie Ma poveri maiali Guarda la sotto Guarda la sotto Quanta giunta Oh ecco Oh insieme Non farti colpire Non farti colpire Da raga ma quanta gente c'è Oddio Io metto un'altra Ma io ho saputo Oramai nelle bag wars A combattere Spano No no Più la spada Oh grande creeper Grande creeper Grande Esplodi Puoi questo Esplodi Esplodi Si appuntato Vada a te Vada a te Pure in cui si può scena bene Non ci riusciamo Non ci riusciamo Qua c'è un altro zombie dietro Io vado Io vado Io vado Ragazzi abbiamo bonificato tutto Abbiamo ucciso tutti Però qua non c'è niente Questa stiva C'è solo lana Ci sono gli animali Però Niente di più Ok qua ho rimediato una torcia Che erano queste due vicine Lì l'hai piazzata Si Perché siamo riusciti Proprio ad ammazzare tutti Raga Non so come Ok ragazzi Quindi ragazzi C'è torniamo nel nostro bagno Nel nostro amato bagno Allora di qua devi salire No non c'è solo lana Ci sono gli animali Eh sì sì L'ho detto lana e gli animali Devi spaccare comunque Oh Matteo Sì Tieni ti ho fatto la scala Toh Ok quando avremo una farm Proveremo anche a Eh Come si dice Proveremo a Farli moltiplicare Per ora non li ammazziamo Perché sennò Quindi ragazzi Torniamocene subito dentro Che è notte E concludiamo Oh zio spawn a gente Fermo Sì Andiamo 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 Io sono dentro Ti esce la porta aperta Ok ragazzi Vai Entro anch'io Vabbè dai Possiamo più vedere Quindi ragazzi Per questo video è tutto Vi ringrazio tantissimo Per le visioni Lasciate un mi piace Se questo video vi è piaciuto Iscrivetevi al canale Se non l'hai fatto Download la mappa Nella descrizione Episodio che c'erete In descrizione E link al canale Di MattGamer 15 In descrizione Lasciate un mi piace Iscrivetevi al canale E noi ci vediamo Poi sul video Ciao 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 Ciao